Eri amici di Visione TV benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento oggi approfondiremo quello che sta accadendo in eh Turchia paese decisivo nello scacchiere internazionale con Erdogan che sta giocando un ruolo diciamo di mediazione nel conflitto un ruolo però per certi versi non proprio chiarissimo. Parleremo oggi con un giornalista di una importante televisione turca Tele1 Okai Deprem che in collegamento con noi c'è anche Andrea Lucidi. Ciao Andrea. Ciao Francesco, buongiorno a tutti i nostri spettatori, tutti gli amici di Visione TV. Oggi abbiamo un'opportunità veramente speciale perché possiamo ascoltare una storia molto particolare riguardo a un avvenimento che è successo nella redazione di questo canale Tele1 che è un canale federale turco e abbiamo in collegamento a Kay Deprem che è un collega che lavora in Russia, segue come corrispondente dalla Russia, ha seguito tutta la situazione in Donbass, già lo fa da qualche anno e Tele1 è uno dei pochi canali, forse è l'unico canale turco che ha una persona sul campo e che sta seguendo il conflitto nel Donbass dopo l'intervento russo, veramente dall'inizio. E è successa una cosa sgradevole a questo canale, in particolare al capo redattore di questo canale che è stato arrestato dopo aver criticato un parlamentare del partito di Erdogan. È particolare l'episodio, è importante parlarne perché oggi la Turchia riveste un ruolo fondamentale in quello che è lo scacchiere geopolitico mondiale. È proprio di ieri la notizia che il presidente Erdogan ha ritirato il veto nei confronti della Svezia per l'ingresso nella Nato e due giorni fa c'è stata la visita del presidente Zelensky in Turchia che si è conclusa con una grande stretta di mano tra il presidente Erdogan e Zelensky e addirittura la liberazione dei comandanti di Azov, liberazione a cui la Russia ha risposto in maniera abbastanza critica e dura dicendo di non essere stata informata di questi sviluppi e che questo costituisce una chiara violazione degli accordi che erano stati stipulati lo scorso anno. Bene, allora entriamo subito nel cuore del ragionamento con il giornalista di Tele1 e cerchiamo di capire di più quello che è accaduto al suo caporedattore. Ecco, perché è stato arrestato? Quali sono le accuse? Tre settimane fa durante un programma Merdan Yardà ha citato una frase di un parlamentare del partito di Erdogan sostenendo che il parlamentare stava facendo del populismo. Questo deputato del partito di Erdogan aveva parlato delle condizioni di detenzione del leader del partito dei lavoratori kurdo, sostenendo che dovessero avere condizioni di detenzione migliori. Il caporedattore di Tele1 ha dichiarato che questo genere di dichiarazioni sono strumentali alle elezioni politiche che si svolgeranno tra qualche mese in Turchia perché è stato lo stesso partito di governo a creare queste condizioni per i prigionieri politici kurdi. In particolare questo deputato del partito di Erdogan, Mehmet Galip Ben Sarriolu, si riferiva alle condizioni di prigionia del leader del PKK, Abdullah Okalan, che si trova di fatto in un regime di isolamento. Ma questo regime è stato creato proprio dal governo turco. Dopo le dichiarazioni del caporedattore sui social, alcuni account pro-governo, forse controllati dal governo, hanno iniziato a pubblicare un video con le dichiarazioni del caporedattore di Tele1, però decontestualizzandole e rendendole in qualche modo scorrette, come se il nostro caporedattore volesse criticare direttamente il governo e non soltanto le dichiarazioni di questo deputato riguardo alle condizioni di prigionia del leader del partito dei lavoratori kurdo. Yanarda ha solo criticato quel deputato riguardo a quella affermazione, non ha criticato il governo. Ha dichiarato che quella affermazione era una affermazione di carattere populista. Il leader del PKK si trova in un regime di isolamento, ma questo regime è stato creato, lo ripeto, dal governo turco. Quindi questa affermazione del deputato riguardo alle condizioni di prigionia dei kurdi è semplicemente un'affermazione populista fatta in vista delle prossime elezioni politiche. Il nostro caporedattore, Merdan Yanarda, è stato arrestato dopo la fine di un programma televisivo ed io ero proprio negli studi del nostro canale. È venuta la polizia per arrestarlo. È stato arrestato nello studio e la procura turca ha aperto un processo a suo carico. La procura di Istanbul ha dichiarato che è necessario tenere Yanarda in detenzione durante le indagini. Io non ho capito benissimo tutti i contorni di questa situazione. Se posso sintetizzare mi sembra che è accaduto questo. Poi mi dirà se ho capito bene. Che il caporedattore di Tele1, di questo network turco, ha criticato un parlamentare del partito di Erdogan per le condizioni di detenzione, se non ho capito male, di un componente del partito kurdo, comunque dell'area kurda che combatte il potere centrale di Erdogan. E questo forse ha fatto scattare un'accusa di complicità col terrorismo kurdo. Cioè, ho capito bene, è questa l'accusa? No, non c'entra il terrorismo kurdo. C'entrano solo le condizioni di detenzione dei prigionieri politici, che oggi sono sottoposti ad un regime di isolamento, regime che è stato criticato da un deputato del partito di governo. In questa storia c'è l'applicazione di un grandissimo doppio standard. Il partito di Erdogan vuole mostrare il proprio potere sui kurdi e sui prigionieri politici kurdi. Per questo ora, a pochi mesi dalle elezioni, un deputato di questo partito, del partito di governo, ha tirato fuori la faccenda delle condizioni dei prigionieri kurdi. Per l'etnia kurda che abita la Turchia, naturalmente questo è un tema importante e il nostro caporedattore ha considerato questa preoccupazione per i diritti dei kurdi qualcosa di non sincero, una semplice mossa politica. E questo è un problema per questo tipo di propaganda. cercheremo di seguire la vicenda di questo. Vi prego di farci sapere quali saranno gli sviluppi di questa vicenda. Cercheremo di informare la pubblica opinione italiana sul prosieguo di questo. di questa brutta storia che riguarda l'arresto di questo giornalista. Da quello che ho capito, accusato soltanto di aver espresso una critica politica. Ora, è una vicenda davvero paradossale. Cercheremo però di capirne di più. Parlerei adesso, in questa seconda fase dell'intervista, di quello che accade in Turchia. Perché la Turchia è un paese decisivo per gli equilibri del nostro mondo, specie in questa vicenda che riguarda la guerra in Ucraina. In alcuni momenti Erdogan sembrava oscillare verso posizioni filoputiniane, adesso invece si è buttato completamente dall'altra parte, liberando i nazisti di Azov e, a detta dei russi, violando un accordo. Che gioco sta facendo Erdogan? Io e la redazione di Tele1 non pensiamo che Erdogan abbia una politica filorussa. Già, prima dell'inizio dell'operazione militare speciale, la politica turca non era propriamente filorussa. Basta pensare, per esempio, a quello che è successo in Siria e al supporto che la Turchia ha dato ai cosiddetti ribelli moderati. Già da molto tempo, inoltre, il complesso militare industriale turco sta collaborando con l'Ucraina per la costruzione di droni e di mezzi militari. Voglio anche aggiungere un fatto. Qualche mese fa la Finlandia è entrata nella Nato e questo è avvenuto grazie al permesso turco. In Turchia, come si dice, non vola una mosca senza che Erdogan lo sappia. Quindi ritengo che lui stia tenendo un comportamento che non è il comportamento di un amico della Russia. Nel 2015 c'è stato un tentativo di golpe in Turchia e all'epoca la responsabilità venne addossata a un certo ambulante, se non ricordo male, si chiama così, un uomo che vive negli Stati Uniti d'America, in Pennsylvania. E si disse, perlomeno in Italia, che all'epoca Putin aiutò Erdogan a sventare questo golpe. È vera questa storia? Penso che quello che è successo nel 2015 in realtà sia sfuggito di mano a chi ha organizzato questo colpo di Stato. Però devo dire che sarà impossibile per noi riuscire a sapere la verità. Perché la Russia ha aiutato Erdogan? Sicuramente perché gli Stati Uniti erano interessati ad attaccare il governo turco ed erano anche coinvolti in questo colpo di Stato. Quindi per la Russia, per le future relazioni tra la Russia e la Turchia, poteva essere molto conveniente sostenere Erdogan in questo tipo di situazione. E' un'ultima domanda, ringraziando il nostro ospite per essere stato con noi, invitandolo a tornare tutte le volte che vorrà, darci notizie rispetto alla situazione della Turchia, che è un paese che ha un peso sempre più importante nello scacchiere europeo e mondiale. Secondo il nostro amico giornalista turco, questa situazione in Ucraina è destinata ad aggravarsi o anche per il tramite magari dell'operazione di mediazione di Erdogan. Sempre se di mediazione è possibile parlare, si arriverà ad una soluzione di compromesso. Qual è la sua impressione? Ritengo che questo conflitto continuerà. Sappiamo bene che il governo ucraino non ha nessun potere effettivo. Lo abbiamo visto fin dall'inizio dell'operazione speciale. Kiev è sotto il controllo di chi ha iniziato questo conflitto, gli americani e gli inglesi. Sentiamo ovunque che l'aiuto per l'Ucraina sarà sempre rinnovato e quindi il conflitto sarà a lungo. Il summit di Vilnius che si sta svolgendo in questo momento può rappresentare un'ulteriore escalation. La politica russa ritiene che l'Ucraina sia solo un giocattolo nelle mani dell'Occidente. Non sappiamo se questa guerra si estenderà ad altri paesi, ma sicuramente sarà combattuta fino all'ultimo ucraino. L'Occidente aiuterà sicuramente l'Ucraina fino al prossimo anno, fino a che non finiranno le scorte militari. Per questo ritengo che il 2024 sarà sicuramente un anno di svolta. in quanto riguarda l'Ucraina, in quanto riguarda l'Ucraina questa guerra. e volevo dire anche a tutti quelli che seguono Visione TV, qui cerchiamo sempre di portare all'attenzione di chi ci segue temi che vengono sottovalutati o nascosti volutamente dal mainstream, perché non fanno comodo. In questo caso è molto importante parlare di quello che succede in Turchia, di questi avvenimenti contro i giornalisti in Turchia, perché oggi c'è il vertice della Nato di Vilnius, dove si parlerà di tante cose, dove il segretario della Nato Stoltenberg, grande amante della democrazia e del pluralismo, stringe calorosamente la mano di Erdogan. Quindi sottolineare questi doppi standard, come ha già detto Haqai de Prem, che sono presenti in Turchia, sono presenti nell'Occidente, sono presenti ovunque. Ricordiamo che Draghi un paio di anni fa, un anno fa, aveva definito Erdogan un terribile dittatore, quando poi in altre situazioni le persone che fanno parte della casta di Draghi, chiedo scusa se ho usato questo termine, ma credo che sia calzante, poi gli stringono la mano, lo abbracciano e lo considerano una persona con cui fare politica tranquillamente, una persona che fa parte della Nato, una persona che fa parte di quella alleanza che, secondo quello che dice Stoltenberg, dovrebbe proteggere l'Europa e l'Occidente proprio dalle dittature, dai regimi autoritari, eppure non si fanno problemi a fare accordi proprio con un regime autoritario, ma del resto la storia ce lo ha insegnato con quello che succedeva in Sud America negli anni 60 e 70. grazie Francesco per la disponibilità e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Bene, grazie a tutti voi, un ringraziamento particolare al collega turco per essere stato con noi. Va bene, finisce qui questa nostra intervista, grazie cari amici, come sapete è disponibile sul nostro sito www.visionetv.it, la sezione shop, l'ultimo numero del nostro mensile visione che si occupa per l'appunto dei temi della guerra, la scacchiera mortale, il tema è il titolo dell'ultimo numero. Per aiutare invece Visione TV che vive solo di donazioni, potete farlo donando ai numeri che la regia ma è andato in sovrimpressione, tramite bonifico, Paypal oppure abbonandomi sul nostro sito www.visionetv.it Grazie ancora, buona giornata. Grazie a tutti.